Potete trovare i testi consigliati dal professor Leonetti al link che si trova sotto al video nell'info box, nella versione cofanetto per avviamento al percorso antroposofico e cofanetto livello avanzato, oppure singoli testi. Grazie ancora del vostro sostegno. Buonasera, bentrovati. Ancora una volta l'antroposofia ringrazia la libreria Gavour per la preziosa ospitalità. Sicuramente ci sarà chi ritiene il nostro ritmo di lavoro troppo lento. Però le parole di Rudolf Steiner sono un monito piuttosto preciso. Noi non dobbiamo solo acquisire contenuti spirituali, dobbiamo cercare di diventare spirituali. Usa una frase veramente lapidaria, diventiamo quello che veramente comprendiamo. E quindi la cattedrale va costruita bene. Oggi deve essere anche antisismica, perché già siamo circondati le molte prove. È possibile che saranno anche più savere in futuro. In una comunicazione spirituale il contenuto non è la cosa principale. È importante che abbia la capacità di innalzare l'anima. Questo è determinante. Se l'anima non si innalza, fatalmente la conoscenza diventerà ostile. È solo una questione di tempo. In quest'ottica ricorderete che la penultima conferenza, dall'anima del gruppo all'Io, sostanzialmente fotografava la conclusione del nostro passato, cioè di quel lungo percorso di discesa dal grembo della divinità alla materia. L'avvento dell'Io significa il raggiungimento di questo punto limite. La conferenza successiva dall'Io al Sé era già una conferenza che si rivolge al futuro, perché il Sé è proprio la prossima dimensione che noi dovremmo realizzare dopo l'Io. Oggi, e in questo vedete che Rudolf Steiner ha ragione di definire il metodo dell'antroposofia scientifico, scienza dello spirito, perché esaminiamo ogni passaggio dell'equazione senza saltarne nessuno. Oggi si propone inevitabilmente un approfondimento del rapporto tra il Logos e l'Io. Abbiamo già dimostrato nell'ultima conferenza che il Sé spirituale, cioè il vero Io, quello che è eterno e passa ad incarnazione e incarnazione, è sostanzialmente della stessa natura del Logos, vive nella sfera del Logos, con un'immagine di altre conferenze, è quella goccia di divinità accolta dalle spugnette che si preparavano a diventare Io individuali. Goccia che ancora continua a scendere. Ecco, quindi questo rapporto è fondamentale, perché noi viviamo proprio con l'Io, da quando ci svegliamo a quando ci addormentiamo, è l'Io che guida la nostra vita. Ora, noi sappiamo che tutta la rivelazione steineriana è frutto di percezione diretta, cioè percezione diretta delle verità nella stessa sfera in cui vivono e si producono il mondo spirituale. È per questo che, tra le tante cose, Rudolf Steiner ci ha lasciato un'interpretazione magnifica dell'inizio del Vangelo che si propone proprio di descrivere il Logos, la sua azione e la sua essenza, che è il Vangelo di Giovanni. Ricordiamo velocemente che Marco invece si occupa della collaborazione di tutto il cosmo all'azione del Cristo dal battesimo alla Pentecoste. Luca si occupa del bambino natanico e della collaborazione del Buddha. Matteo del bambino saloponico e del ruolo di Zaratustra. Quindi il Vangelo dedicato proprio al Logos specificamente è il Vangelo di Giovanni, che comincia con queste parole. In principio era il Verbo, quindi su Saturno c'era solo il Logos. Verbo è una traduzione un po' imprecisa perché non è né italiano né latino, ma è la stessa che si usa per esempio nel Vangelo delle Edizioni Paoline. Quindi su Saturno c'era solo la prima emanazione del Padre, del principio fondamentale da cui tutto discende, che esiste ma si manifesta in prima persona con Logos, con un primo atto voglio dire con Logos. Quindi nessun'altra entità su Saturno al di fuori del Logos, che ricordiamolo sempre è la guida di tutte le gerarchie. Il Verbo era presso Dio, quindi era presso il Padre. Del Padre sono state date tante definizioni. A me piace moltissimo quella di Zaratustra, che lo definisce il sereno fluire del tempo increato. È bellissimo, si ha queste immagini nello stesso tempo statica e dinamica. Il Verbo era Dio, cioè era della stessa sostanza del Padre. Tutto ebbe origine da esso e siamo ancora nella sfera di Saturno. Poi noi sappiamo che l'incarnazione successiva è il Sole. In esso era la vita. Nell'incarnazione successiva il Logos diventa vita. E noi sappiamo che questo si manifesta come? Con l'aggiunta del corpo eterico, che si chiama anche corpo vitale. Vita che era luce per gli uomini e siamo sulla terza incarnazione, la Luna, dove il Logos diventa corpo astrale, diventa luce astrale. Il corpo astrale ha per sua caratteristica di emettere luce. E la luce risprendette nelle tenebre e siamo nella quarta, la Terra. Ma le tenebre non l'hanno compresa perché? Perché l'Io è appena appena abbozzato ai tempi del Cristo. Il Cristo viene proprio per svilupparlo. E sostanzialmente possiamo anche dire che a tutt'oggi non è che poi ci sia stata questa grandissima comprensione. Ora vedete, questa è la produzione letteraria più potente che si è mai apparsa sulla Terra. Siamo tutti innamorati della commedia, lo era anche Rudolf Steiner, un grande stimatore, ma questo è superiore a tutto perché in una sola frase è stata condensata tutta la cosmoconia da cui deriviamo. Saturno, Antico Sole, Antica Luna, sì, cioè Antica Luna, quindi la luce e la Terra. È notevole. Ora, proseguendo, ne abbiamo parlato in tante conferenze, noi sappiamo che il gradino successivo qual è. La Terra all'inizio si presenta come un coacervo unitario di tutto ciò che oggi costituisce il sistema solare, sia dal punto di vista fisico che spirituale. A un certo punto questa convivenza si rivela impossibile perché c'è una serie di entità molto evolute che non riesce a progredire perché è troppo frenata da quelle poco evolute. E quindi stiamo parlando degli Elohim, gli spiriti della forma, che sono sette, e sei di loro si staccano dalla Terra, lo sappiamo, portano con loro le sostanze più tenue, più rarefatte, e si creano un corpo adatto alla loro evoluzione che è l'attuale Sole. Invece il settimo Elohim rimarrà sulla Terra e poi eleggerà a sua dimora la Luna quando la Luna anche si staccherà. Qui succede un fatto di un'importanza grandiosa che non è nemmeno tanto facile da intuire o interpretare. Il dottore chiama la sintesi dei sei Elohim, utilizzando la parola greca molto spesso, il pleroma, cioè la potenza complessiva, e perché questo? Perché il Logos diventa in quel momento la loro guida, ma non nel senso che dell'entità che dia direzioni o indicazioni, proprio li permea completamente. I sei Elohim diventano totalmente, totalmente permeati dal Logos, per cui qualunque loro azione è un'azione del Logos. Perché sono stati scelti proprio gli spiriti della forma per questo atto incredibile di donazione cosmica? Perché la fase più importante in quel momento era consolidare la forma umana in modo che corrispondesse, il fisico innanzitutto, ai fini dell'uomo. Questo consolidamento era indispensabile perché si potesse esplicare correttamente l'Io. E si chiamano appunto spiriti della forma perché hanno raggiunto in quel momento un altissimo livello di consolidamento di quanto già predisposto dal Logos attraverso altre gerarchie. Ora, qui si verifica un fatto di importanza fondamentale. Perché è tanto importante che l'Io abbia questa costituzione e l'organismo fisico altrettanto per supportarlo? Perché il destino dell'uomo era quello di arrivare ad un certo punto ad avere una caratteristica che solo noi abbiamo, cioè la parola. Ci sono animali che esprimono le loro emozioni interne con dei suoni anche articolati, ma l'uomo non può fare solo questo. Può anche esprimere in suoni sensati e articolati tutto quello di cui viene a conoscenza al di fuori di lui e riesce a trasformare in una rappresentazione. E allora, vedete, si verifica un evento eccezionale. Ciò che compare per ultimo, cioè la parola, in realtà esisteva già all'inizio, era il verbo. Potremmo definirli tutti e due con lo stesso termine. La parola era all'inizio ed è l'ultima cosa che poi si manifesta, perché all'inizio non era manifesta. Era la parola del Logos che si accingeva e procedeva alla creazione. L'uomo è stato muto fino a moltissimo tempo della sua evoluzione. Fino all'incarnazione Terra, tutte le altre non erano fisiche, non erano percepibili fisicamente, non avevano nulla di esterno. Questo naturalmente ci dice che cosa? Che da solo basta a dimostrare che in noi comunque c'è una traccia divina per questo collegamento formidabile. Ma noi possiamo andare oltre. Quando abbiamo detto prima che il Logos in principio era il verbo, da quel momento su Saturno il Logos imposta l'archetipo del corpo fisico dell'uomo con questo fine, affinché poi il Logos stesso, la parola, si possa manifestare nel mondo fisico attraverso l'uomo. Naturalmente il verbo iniziale era una potenza creatrice di mondi. La nostra parola per ora è al massimo un processo descrittivo, espressivo, più o meno ben articolato. Però noi possiamo aggiungere ancora un ultimo corollario. La vera storia spirituale dell'uomo comincia quando? Quando un uomo ha pronunciato per la prima volta una parola sensata, cioè dotata di un contenuto ragionevole. E qui vedete già che siamo subito spostati da questa concezione così terragna che ormai sta opprimendo tutto. Solo con questo si intuisce perfettamente che la nostra origine è veramente molto alta. A questo punto possiamo tirare già un po' delle conclusioni di natura relativa all'argomento io. In principio era il verbo. Il verbo era presso Dio, anche l'uomo era nel verbo. Non era stato ancora proiettato come una creazione indipendente esterna. Il verbo era presso Dio, quindi anche l'uomo era in Dio. Cosa ne riduciamo ai fini che ci interessano? Che l'autocoscienza in quel momento dimorava nella divinità. Che cos'è che cambia la situazione? Quella che in tutte le mitologie viene chiamata come la tentazione luciferica, la mitologia della caduta, del peccato originale, il serpente, la mela, Eva. Ma in altre mitologie ci sono descrizioni equivalenti. Da quel momento l'uomo comincia ad avere un'influenza tale di Lucifero nel corpo astrale per cui lentamente, lentamente viaggia verso la mineralità il cui Dio però è a Rimane e si stacca dalla divinità. Perché questo è proprio il suo fine, diventare un essere spirituale ma autonomo e indipendente. La frase di Lucifero è chiarissima, diventerai capace di giudicare tra il bene e il male. Se siamo diventati capaci, questo ognuno di noi si deve trovare la risposta. Non vogliamo essere pessimisti, ma certo che sentendo un giornale radio non sembra che abbiamo fatto grossi progressi. A quel punto succede un altro evento cosmico fondamentale. Le gerarchie più alte cominciano ad accorgersi che questo livello di discesa è così accelerato che la terza gerarchia che ha il compito di guidare l'uomo, e ce l'ha tuttora, l'angelo a livello individuale, l'arcangelo a livello di un popolo, l'arcaia a livello di un'epoca di civiltà, non sarà in grado di resistere alla pressione degli ostacolatori. Perché Lucifero si può considerare un arcangelo decaduto, a rimane un arcai decaduto, e addirittura gli asura del spirito da forme irregolari decaduti a livello di arcai. Quindi sono tre gerarchie regolari, angeli, arcangeli, arcai, e tre irregolari nello stesso livello. A questo punto Rudolf Steiner parla proprio di un concilio celeste. Adesso questo per noi è difficile da immaginare. E nel Parsifal di Wagner, che ci si avvicina molto, scenograficamente questo si rappresenta sempre proprio con la classica tavola rotonda e le grandi guide del cosmo che si riuniscono per deliberare. Ognuno la immagini come crede, ma veramente c'è stato questo momento nel quale si prende atto di questa futura prossima incapacità della terza gerarchia di proteggere, di guidare correttamente l'uomo, e si decide che cosa? Che non è più possibile guidare l'umanità dal sole, cioè dalla sfera in cui, abbiamo detto prima, i sei Elohim e il Logos si sono scelti come dimora e dalla quale hanno operato fino a questo punto. È a quel punto che si verifica il massimo atto di libertà cosmica che mai ci sarà. Cioè il Logos, senza esserne affatto tenuto, senza che nessuno glielo imponesse, per un atto assoluto di libertà, motivato da che cosa? Dalla sofferenza immensa che cominciava, e già era molto sviluppata, a promanare dall'umanità, schiacciata dagli ostacolatori. Non so perché questa immagine mi ha sempre fatto venire in mente la frase di Vittorio Emanuele II, approssimandosi, decidendo la seconda guerra d'indipendenza. Non siamo insensibili al grido di dolore. Il Logos non è stato insensibile e ha deciso di rinunciare alla sua infinita, illimitata dimensione cosmica per venirsi a ricliudere in un corpo sempre più malato che poi farà la fine che sappiamo. Naturalmente si tratta di qualcosa di gigantesco e noi sapriamo poi che questo si verificherà attraverso la porta Gesù. Gesù di Nazio tratterà la porta attraverso la quale nel battesimo del Giordano il Logos si incarnerà in un essere umano, sopporterà la morte e tutte le sofferenze precedenti a un livello che noi non possiamo neppure immaginare, perché quei tre anni sulla Terra in cui la dimensione infinita del Logos si è dovuta rinchiudere in un corpo umano, tra l'altro sempre più malato, sono stati attimi, secondi continui di una sofferenza che noi non abbiamo la capacità mentale di immaginare. È proprio impossibile. Questo però non è successo direttamente. Ne abbiamo parlato nella conferenza Vita, Morte e Rinascita, mi sembra del settembre 2020, perché la situazione sulla Terra era già degenerata moltissimo. L'influenza luciferica aveva scombinato complessamente la struttura dei sensi umani, per cui di fronte a un colore venivamo attratti in un modo insopportabile, irrefrenabile, di fronte a un altro colore provavano una ripulsione. E così per tutte le percezioni. Impossibile sviluppare l'uomo così. È del tutto inutile un intervento della divinità in quella situazione. Poi la stessa cosa si è replicata per gli organi umani. Prima quindi nei dodici sensi. Abbiamo detto in altre conferenze che i sensi sono dodici. Poi nei sette organi. Anche qui un cibo suscitava una depulsione invincibile, un altro un'incapacità di smettere di cibarsene. E anche qui il Cristo deve intervenire ancora una volta. Il Logos è risanare. E infine, nelle tre facoltà dell'anima umana, pensare, sentire e volere, scombinate completamente anche quelle. Abbiamo anche aggiunto che l'arto operativo del Cristo in questi tre processi immensi di risanamento, e sono durati molto tempo, è quella parte dell'entità da mitica originaria che non è stata utilizzata per incarnarsi nel primo uomo, Adamo. È stata sempre protetta nei mondi spirituali, non si è mai incarnata tranne una particolarissima apparizione in Krishna, quindi non ha subito mai l'influenza luciferica. E, giovandosi della forza del Cristo, sana i sensi dalla sfera solare, gli organi dalla sfera planetaria e le tre facoltà animiche umane dall'atmosfera intorno alla Terra. Finalmente questa entità si incarna in Gesù di Nazareth per la prima volta, e al XVI anno, anche l'altro termine della collaborazione, il Logos, si incarna e diventa il suo Io. Vedete che fino adesso abbiamo descritto dei processi cosmici immensi. Questo ci dà anche la misura della distanza della concezione esistenziale attuale che, sì e no, afferra in malamente qualche processo storico secolare. Questo però ci deve suggerire un altro tipo di considerazioni. Nell'antico ebraismo, che è un buon testimone della spiritualità antica, il Padre era ritenuto colui che sostiene la vita ma non interviene nella coscienza e tantomeno stimola l'Io. Tutto si svolgeva nel corpo astrale, dove è nei tanti riti dei tempi, dei misteri, che sono stati il collegamento, dovremmo anche definirlo pagano, cioè non legato alla religione ebraica di quel periodo, alla prassi ebraica, nei quali addirittura gli iniziati venivano chiamati padri, perché ricevevano questo impulso direttamente dal principio fondamentale, dal padre. Curiosamente anche noi oggi in diverse confessioni chiamiamo padri i ministri del culto. Quindi un'estrema esaltazione del corpo astrale è quindi l'estasi. Il contatto col divino avveniva in forma statica. Il Cristo sceglie un'altra strada, sceglie di intervenire direttamente nell'Io nascente dell'uomo, che era proprio appena abbozzato. E quindi da allora il principio iniziatico è il contrario, attutimento massimo del corpo astrale e potenziamento massimo dell'Io. Infatti la meta del Cristo è proprio questa, riportare tutta l'umanità nel mondo spirituale, ma in modo che ciascuno conservi il proprio Io individuale, naturalmente modificato, arricchito nel tempo. Quindi adesso ci necessita una sintesi comunque, per cui noi potremmo dire che l'uomo antico sentiva la coscienza della divinità che attraversava tutta la sua etnia, tutta la sua stirpe nel sangue. Il legame della consanguinità era la base di tutto. L'uomo nuovo successivo all'intervento del Cristo comincia a sentire che già nel suo Io ordinario individuale c'è un qualche contatto con la divinità. Può andare oltre, sperimentando l'Io, arrivare ad avere una certa sensazione almeno dell'ente che ha creato tutto e è pure lui medesimo. E continuando su questo percorso, può arrivare alla sintesi proprio più ristretta e definitiva. Io è il fondamento spirituale del mondo, siamo uno. è un cambiamento di prospettiva assolutamente totale, come l'inversione dei poli che è avvenuta tantissimo tempo fa sulla Terra. E noi vediamo che questa figura del principio fondamentale di tutto, della coscienza originaria, l'abbiamo trovato nella frase di Giovanni che inizia il suo Vangelo, il Cristo si riferisce al Padre continuamente, Padre perdona essi che non sanno quello che si fanno, Padre allontana da me questo calice, eccetera, eccetera. Basterebbe una frase unica del Vangelo di Giovanni, Giovanni 10,30, il Padre e Dio siamo uno. L'Apidaria. Rudolf Steiner aggiunge delle perifrasi, cioè degli adattamenti un po' più letterari di alcune parabole sullo stesso tema. Se si parla dell'io nel senso in cui ne parlo, è il Cristo che parla. So che quell'io proviene dal Padre, dal fondamento comune a tutto l'universo, ancora il Padre. Il mio giudizio è vero, è sempre il Cristo che parla, poiché allora l'io non sta solo per se stesso, ma è congiunto col Padre dal quale esso proviene. Sono passi dal Vangelo di Giovanni Rudolf Steiner, editrice antroposofica, terza conferenza, paraprasi da Giovanni 8,15. È ancora il Cristo che parla. Quando parlo di me stesso, io non parlo in fondo di quell'io che sta nella mia persona, bensì dell'io sono, di quella entità che ognuno ritrova in sé stesso. Il mio io è uno col Padre. Stesso testo Giovanni 8,16. Ora, è abbastanza evidente, dunque, continuando il percorso delle precedenti conferenze, che c'è un filo diretto che non si è mai spezzato. E risulta abbastanza coerente che cosa? Che il Cristo che non ha mai scritto nulla, non ci ha lasciato nulla di scritto, ci ha lasciato una preghiera fondamentale che è la base di tutta la devozione cristiana che si rivolge proprio al Padre, che è il Padre nostro, ovviamente. Nella prima parte abbiamo parlato in una conferenza, speriamo si presenti l'occasione per completare. E Rudolf Steiner dice che nel Padre nostro la frase decisiva è, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E cominciamo quindi a inquadrare adesso questo elemento. E si intuisce che l'opera del Cristo punta a che cosa? A modificare l'essere umano, a svilupparlo, a perfezionarlo, in modo che sempre di più la sua volontà del singolo essere umano sia permeata dalla volontà del Padre che il Cristo stesso ha portato nel mondo fisico e ha così comunicato, così insegnato per i tre anni della sua predicazione. E allora ci ritroviamo adesso con questo elemento decisivo che è la volontà. E lo è veramente. Perché nella conferenza precedente noi abbiamo incontrato il primo elemento decisivo che è il pensiero. C'è una bellissima frase di Massimo Scaligero in Meditazione e Miracolo, libro straordinario, edizione mediterranea, in cui lui dice proprio così, il Logos nell'anima umana si presenta inizialmente come pensiero, ma poi prosegue come volontà. E l'ascesi del pensiero, unita all'ascesi della volontà, costituisce il pensiero come via della moderna evoluzione nell'epoca dell'anima cosciente, cioè la via del pensiero. Noi abbiamo parlato di ascesi del pensiero nella conferenza precedente e oggi ci troviamo dunque a parlare dell'ascesi della volontà. Sono proprio le due gambe con le quali il vero cercatore spirituale, piano piano e con molta umiltà, si avvia verso le sfere superiori. La parola ascesi, l'abbiamo detto, significa proprio salire purificando. Ora seguiremo lo stesso metodo che abbiamo seguito, scusate una piccola interruzione, nella conferenza precedente. Rudolf Steiner si occupa della volontà, come si è occupato del pensiero, nei sei esercizi editrici antroposofica. E lo sappiamo, l'abbiamo detto, è un testo antologico in cui qualcuno molto saggiamente ha raccolto tutte le varie descrizioni degli esercizi in questione che Rudolf Steiner ci ha lasciato in varie occasioni. Adesso le riassumiamo ancora una volta per quello che riguarda la volontà. Esercizio della volontà dai sei esercizi di Rudolf Steiner, editrice antroposofica. La prima, si cerchi di immaginare un'azione qualsiasi che di certo non si compirebbe secondo le consuete abitudini di vita. Si trasformi questa azione in un dovere quotidiano. Sarà bene scegliere un'azione che possa essere compiuta ogni giorno per il più lungo tempo possibile. Anche qui sarà meglio se, per cominciare, sceglieremo un'azione insignificante alla quale ci si debba in qualche modo costringere. Con sottile attenzione si diventerà coscienti nell'anima di un sentimento di interiore impulso all'attività. Tale sentimento va riversato, per così dire, nel proprio corpo, facendolo fluire dalla testa fino al cuore. Seconda descrizione, c'è anche un titolo, iniziativa nell'azione. Significa imporre a se stessi doveri anche insignificanti, purché scaturiti dalla propria iniziativa. I motivi delle azioni derivano, normalmente, per lo più da relazioni familiari, dall'educazione, dalla professione e così via. Si pensi quanto poco proviene da iniziativa personale. Ora si deve trovare nella giornata un po' di tempo per compiere azioni liberamente volute. Non occorre che siano azioni importanti, anche se insignificanti, raggiungono comunque il loro scopo. Vedete, qui non si parla di questo senso di interiore impulso all'attività e della necessità di farlo fluire dalla testa al cuore. È successa la stessa cosa anche negli esempi relativi alla concentrazione. Ancora una volta c'è lo stesso titolo, iniziativa nell'azione. Per questo esercizio bisogna scegliere un'azione concepita da se stessi. L'atto deve nascere dalla propria iniziativa e va concepito da se stessi. Si osserva presto una sensazione come posso compiere qualcosa, ho più capacità di prima, sento un impulso all'azione, che viene avvertito realmente in tutta la parte superiore del corpo, si cercherà allora di farlo fluire fino al cuore. Qui invece c'è quello che abbiamo trovato nel primo. L'ultimo. L'anima deve diventare padrona non soltanto nel mondo dei pensieri, ma anche nel campo della volontà. Nel mondo fisico sensibile è sempre la vita che si presenta come dominatrice, facendo sentire agli uomini questa o quella necessità, cosicché la volontà si sente stimolata a soddisfare tale richieste. Seguiamo lo stesso percorso che abbiamo seguito con la concentrazione e adesso esaminiamolo a fondo questo esercizio della volontà, che come abbiamo visto è l'altra gamba del percorso. Dunque, la premessa filosofica è questa. L'essenza dell'esercizio si basa su due constatazioni. A. Siamo soliti indirizzare quasi sempre i nostri sforzi volitivi verso un fine utilitaristico. Vado quotidianamente al lavoro per percepire un salario. Mi impegno in qualcosa perché ne riceverò un compenso, magari anche non materiale. Cioè, la nostra volontà quasi sempre si muove per un fine utilitaristico, cioè per ottenere qualche risultato vantaggioso per noi. B. Non di rado la nostra volontà ci è imposta dalle circostanze, da altri, da normative. Per esempio, sosservo una determinata condotta per non rischiare i rigori della legge o l'altrui di disapprovazione o in ossequio a una tradizione. E questo è l'altro punto debole della volontà. Già dall'istruzione, dall'educazione, oggi un po' meno, ma una volta molto di più, noi siamo quasi ingabbiati in tutta una serie di regolamenti, procedure, tradizioni, mode, abitudini, per cui scantonare da tutto questo per un atto di volontà libero, una volta era considerato eversivo, oggi spesso addirittura strano o quantomeno. E queste sono le due debolezze. Muoviamo la volontà per avere un ritorno e la muoviamo perché qualcuno ce lo impone. non è una decisione nostra di attivarci. Ecco, l'esercizio punta a confrontare queste due debolezze e risolverle. Quindi, l'esercizio consiste per santo nel programmare per il giorno seguente, ad un'ora precisa della giornata, meglio non serale perché gli esercizi della volontà, la sera disturberebbero il sonno. Una semplice azione esteriore di nessuna rilevanza pratica che ci imponiamo da soli. Ecco, qui in questa frase abbiamo sintetizzato tutto. Una semplice azione esteriore di nessuna rilevanza pratica, cioè che non ci porta nulla, nessun vantaggio, se non quello di rinforzare la volontà. Che ci imponiamo da soli, che non ci chiede nessuno, è una scelta nostra. Per esempio, domani alle ore 11 aprirò e richiuderò dopo 10 secondi il cassetto della scrivania o di un altro mobile. Vedete, è un'azione che francamente non si vede a che potrebbe servire, consuma anche un po' il legno del cassetto, ma sto scherzando. Non ha nessuno scopo utilitaristico, non ce lo chiede nessuno, ce lo imponiamo da noi. Quindi il giorno prima, scegliendo un'ora naturalmente possibile, perché se uno alle 11 sta impegnato in una sala operatoria a operare, quello non sarà un buon momento per l'esercizio, ne dovrà scegliere un altro. Comunque l'abilità è proprio questa, di programmarlo il giorno prima e mantenere l'impegno, perché questo è un atto di volontà grosso. Chi lo prova a fare veramente se ne accorge. Opportuno scegliere un momento in cui siamo certi che saremo soli per evitare commenti stupiti. Perché uno, non so, di fronte a tutta la famiglia, alle 11 mattina va, prende il cassettone, lo apre, aspetta 10 secondi e poi lo richiude. Magari qualche pensiero un po' strano negli altri può sorgere abbastanza legittimamente. Meglio eseguire l'azione coinvolgendo energicamente le braccia, ritti sulle gambe, ben concentrati. Questo perché qualcuno ha immaginato che bastasse un'azione mentale. no, no, no. Deve essere un'azione che coinvolge il fisico. Quindi ben ritti sulle gambe, uno afferra il cassetto bene, lo apre, aspetta 10 secondi e lo richiude. Con la massima concentrazione mentale possibile. Non va fatto distrattamente, automaticamente. No, no. Bisogna essere molto molto presenti. Questo è determinante. È fondamentale programmare il giorno prima con determinazione la semplice azione di essere scelta, sforzandoci poi di mantenere con assoluta precisione l'oraria, l'impegno e il giorno dopo. Quindi è stato chiesto, ma se io arrivo tardi 5 minuti? Eh, non ci siamo. Se è arrivato tardi 5 minuti, non per questo farai 10 anni in più di Kamaloka, però l'esercizio non si può considerare proprio perfettamente riuscito. Terminato l'esercizio si avvertirà nell'anima un impulso all'azione, cioè uno si sente più energetico, che va convogliato dalla testa al cuore. Qui poi ognuno ne fa quello che vuole. Se lo tiene per sé, lo offre al mondo, faccia lui. E qui cominceranno le dolenti note. In caso di fallimento del proposito, ipotesi tutt'altro che infrequente, è un esercizio in cui si fallisce molto, non bisogna scoraggiarsi, è utile autopunirsi, ripetendo l'azione due volte successivamente all'appuntamento fallito. Per esempio, mancato l'esercizio alle 11, eseguire la stessa azione alle 11.15 e alle 11.30. Risolve abbastanza. Soprattutto consente a che cosa? All'entità spirituale che si è abituata a venire alle 11 per fare l'esercizio con noi, comunque di farlo e non perdere l'esercizio per quel giorno. Perché ogni volta che cominciamo a fare un esercizio a un certo orario, con una certa regolarità, state tranquilli che le gerarchie regolari arrivano subito. Non aspettano altro e donano forze. E se arrivano e uno proprio l'esercizio l'ha mancato del tutto, vi assicuro che ci rimangono proprio male. Soluzione secondaria alternativa. Qualora i fallimenti si dovessero ripetere per giorni, che ripeto, non è così raro, procedere diversamente, programmando l'azione nello stesso giorno, inizialmente a tre ore di distanza. Per esempio alle 15, programmare un esercizio per le 18, non più tardi. Poi dopo qualche giorno, se c'è riuscito, di tre ore diventano quattro, 11 per le 15. Qualche giorno e poi programma un esercizio alle 11 per le 16. Quando ha quasi completato la giornata, ritorna a tentare l'esercizio programmato il giorno prima per il giorno dopo. Poi cinque volte e così via. Cinque ore sino a ritentare l'esercizio base da programmare a 24 ore di distanza. Ci ho scritto ancora ricorrenti ai fallimenti che non devono scoraggiare. Non è consentito configurare l'esercizio in concomitanza con un evento esteriore ripetitivo. Per esempio io non posso decidere di fare esercizio alla volontà quando finisce il teggi delle 13 o quando suona la campana della messa delle 12. No, questo non sarebbe leale verso la nostra volontà. Evidentemente ci ho scritto da parentesi e tantomeno con l'ausilio di una sveglia perché c'è qualcuno che mi ha chiesto ma io non ci riesco, posso usare la sveglia? No. Come per la concentrazione è opportuno evitare di programmarlo tra le 12 e le 14 o tra la mezzanotte e le 2. Noi sappiamo che sono quei due periodi in cui le gerarchie regolari si riposano, spostando tutto di un'ora in caso di ora legale. Si può eseguire quotidianamente lo stesso atto alla stessa ora o cambiarli entrambi. Basta che uno lo decide il giorno prima. Domani invece di aprire il cassetto e richiuderlo, apro e richiudo la finestra se non è inverno gelido. Fino adesso l'ho fatto alle 11, domani lo faccio alle 11 e mezza, da domani in poi. Si possono cambiare entrambi purché si mantenga l'impegno preso. Se si deve cambiare azione d'ora, sempre progettando in anticipo quando si può, qualora si preveda che le circostanze lo imporranno, per esempio se capita un'improvvisa riunione di lavoro inderogabile, il giorno dopo, proprio nell'ora prescelta, ove possibile, meglio cambiare l'azione e mantenere l'orario. Uno quando arriva al parcheggio del suo ufficio, prima aveva aperto sempre il cassettone nel corridoio, apre il bauro della macchina e lo richiude. Un esempio. Ognuno si può scegliere gli atti che vuole. È meglio perciò, se possibile, mantenere l'ora per quell'appuntamento di cui parlavamo. Quindi la sintesi è l'esercizio affronta e corregge le due fatti specie ai punti A e B, in quanto l'azione non porta alcun vantaggio utilitaristico esteriore ed è esclusivamente frutto di una nostra autonoma decisione. Mira esclusivamente a consentire alla nostra volontà un deciso recupero di vigore ed autonomia. Il primo esercizio va continuato quotidianamente la concentrazione. Ecco, io spero che non ci siano più dubbi perché su questo esercizio mi sono arrivate tante tante domande sempre. È legittimo, è più che giusto. Naturalmente la conseguenza qual è? Che non si potrebbe cominciare con questo esercizio. Bisogna cominciare prima con la concentrazione. Perché? Perché abbiamo detto che richiede una grande concentrazione mentale. E quella cominciamo già a ottenerla con l'esercizio della concentrazione nel quale comunque di volontà ce ne vuole molto. Per questo questo viene per secondo. Perché se uno lo fa distrattamente e non ha acquisito una certa capacità di concentrazione difficilmente ne ottenerla dei risultati. Fatto invece correttamente poi riflette i suoi benefici sul primo esercizio. Sulla concentrazione. Perché avremo più volontà nel mantenere il tema al centro dell'attenzione. Più volontà nel riferirgli tutto il riferibile. Più volontà in quel momento difficilissimo della contemplazione contemporanea. Ecco, come vedete dunque si riconferba ancora questa verità importantissima secondo me nel campo dell'esoterismo che a fronte di tante vie proprio diciamo così fantasmagoriche per non usare altri aggettivi. L'antroposofia usa soltanto i pensieri e i sentimenti ordinari. Addirittura agli atti ordinari persino banali. Ricordo una persona tanti anni fa che non aveva capito bene questo che mi descrisse delle conseguenze dell'esercizio della volontà che erano stranissime. E io gli chiesi ma lei come lo fa questo esercizio? Ah, io accendo una candela in salotto, la porto davanti a... io poi la sposto da lì davanti a Santa... cioè... era una cosa innanzitutto quasi impraticabile, non concentrata. Non era possibile concentrare in un solo atto per poi secondo il corpo, la mente e l'anima. Questo era un esempio, poi naturalmente si è corretta. Ma c'è questa tendenza per cui spesso quando qualcuno mi chiede gli esercizi e io comincio con la concentrazione e poi la volontà, si sente quasi un senso di delusione. Eh, perché provengono da strade dove l'esercizio riguarda formule, mantra complicatissimi, immagini da costruire. No, l'uomo dell'epoca dell'anima cosciente, qual è la sua caratteristica fondamentale? Che l'io è direttamente in contatto con la materia fisica. L'uomo dell'anima cosciente ha l'io che direttamente agisce nella materia fisica, come non è mai successo prima. L'uomo dell'anima senziente aveva molti filtri astrali prima di avere questo contatto diretto. E quindi ha bisogno di esercizi che quasi quasi, non dico nascono dalla realtà fisica, ma ascono dalla realtà in cui poi deve operare. Quindi, lo sottolineo perché questa tendenza a considerare un po' primitivi questi esercizi e quindi a sottolutarli, a farli con un impegno minore, sparisce subito in chi li fa sueriamente. In poco tempo si accorge di cambiamenti in se stesso straordinari. Però è la prova più evidente di che cosa? Che da adesso in poi, e già da tempo, qualunque atto di impegno interiore deve avvenire alla luce della coscienza dell'io, cioè dell'io quotidiano, quello che cominciamo a utilizzare quando ci svegliamo la mattina e mandiamo a riposo quando ci addormentiamo la sera. E questi sono proprio esempi clamorosi. Usiamo lo stesso pensiero che usiamo in tutto il resto. Il pensiero con cui si fa la concentrazione lo può fare anche una persona che ha la terza elementare, o nemmeno quella, se ha capito l'esercizio. E usiamo la volontà che hanno tutti. Chi è che non ha la volontà di aprire e chiudere un cassetto. Se non ce l'ha siamo di fronte a qualche malattia molto grave. Questo ci dà una duplice sensazione. Mentre prima abbiamo descritto una cosmogonia immensa in cui senz'altro noi siamo coinvolti, se non altro come discendenza, siamo altrettanto coinvolti nel mondo contemporaneo in cui ci troviamo ad operare. E da qui ricaviamo un altro, ancora coloraio fondamentale, che è completamente estraneo all'antroposofia, qualche tentativo di sfuggire la realtà contingente, qualificandola come insignificante, perché ci sono altri mondi molto più degni. No, no, no. Il destino dell'uomo si svolge qua sulla Terra. Per incarnarci opportunamente stiamo secoli nei mondi spirituali prima di nascere per accumulare tutte le forze che ci servono. Quindi anche dalla costruzione piuttosto primitiva di questi esercizi, sono disposto ad ammettere, perché? Perché sono essenziali senza fronzoli, senza chiacchiere, senza velleità esoteriche, psichedeliche. Si parte proprio dalla realtà della costituzione dell'essere umano e dalla nostra esistenza. Ora, possiamo ricollegarci alla prima parte della conferenza. Il cristianesimo è solo ai suoi inizi. Per quanto la frase possa sembrare strana, però è proprio così. Perché per duemila anni circa il Cristo ha operato indipendentemente dalla comprensione della sua essenza, della sua azione e della sua natura da parte degli esseri umani. Persino dal punto di vista storico, tacito, uno dei più grandi storici dell'antichità, secondo alcuni il più grande, in relazione agli eventi palestina parla di una setta guidata da un certo Gesù, ma se la cava con poche righe, non ci sono altre tracce. Naturalmente poi ci sono stati tentativi molto complessi, come l'agnosi, addirittura veramente raggiunto vertici di complicazione mentale, 31 livelli tra il padre fondamentale dell'essere umano attuale. L'astroposafia sicuramente costituisce, rappresenta una sintesi ad un altro livello più maturo per l'uomo attuale. Però, di fatto, il cristianesimo ancora oggi è un atto di fede per molti, ed è già tantissimo, ma quanto alla comprensione vera, che lo scopo a cui mira l'antroposofia, perché Rudostani ci dice chiaramente che tutta l'antroposofia gravita verso il suo centro, e il centro è il Cristo. Dice, tanto capirai dell'antroposofia quanto avrai capito dell'impulso Cristo. Non ha proprio mezzi termini in materia. E allora qualcuno potrebbe dirci, ma allora adesso, dopo questi duemila anni, che succede? Che il Cristo continua ad operare, naturalmente, ma non è più insignificante la partecipazione e la comprensione dell'uomo. Diventa determinante. Noi l'abbiamo visto già, se qualcuno esamina la storia del ventesimo secolo con un minimo di obiettività è terrificante, è un secolo terrificante. Non è che poi, passando al ventunesimo, sia segni di ravvedimento. Ha fatto, ha fatto. Quindi la comprensione di questo impulso Cristo poteva essere prima forse un complemento culturale, accademico quasi. Adesso no, è un elemento fondamentale, costitutivo. Il Cristo non opera se l'uomo non si attiva. E oggi attivarsi significa proprio cercare di comprendere tutto quello di cui parliamo in queste conferenze. Oggi ci siamo approfonditi un po' di più nell'essenza del logos, che è un atto un po' temerario. L'abbiamo fatto con tutta l'umiltà dell'universo, anche perché, insomma, abbiamo sette anni di lavoro alle spalle. Tante volte ho ricevuto richieste di approfondire e ho detto, eh, dovrete aspettare, perché chi non sa appazientare non costruirà una buona cattedrale. State tranquilli, alla prima bottarella Scala Richter, anche due, viene giuttuto. Ora, può sembrare quasi scoraggiante questo fatto, però, da un certo punto di vista, ci spiega anche l'andazzo, diciamolo pure, un po' disgustoso, in cui ci troviamo coinvolti sempre di più. E ci fa anche capire che quelli che dicono, ma, insomma, questo Cristo è venuto, ma tutto va male come prima, no, se non fosse venuto noi probabilmente non saremmo nemmeno qui a parlare. Ma i danni sono quelli provocati dall'egoismo, l'egoismo inserito da Lucifero affinché noi diventassimo entità indipendenti. Ma questo è cominciato nella Lemuria, ha provocato danni per tutto il resto della Lemuria, per tutta Atlantide, per tutte le quattro civiltà precedenti, le tre civiltà, scusate, precedenti a quella in cui il Cristo si è incarnato, paleo-indiana, paleo-persiana, egizio-caldaica, e anche per parte della greco-romana. E quindi il Cristo non può risolvere tutti questi danni in un paio di incarnazioni. Accelererà molto perché lo sta già facendo, ma una certa ragionevolezza da parte nostra ci vuole, anche perché a volte si ha l'impressione non solo che l'uomo non collabori, ma che proprio remi contro. Remi proprio contro. Ci sono delle stupidaggini, degli atti ostili, che non hanno neppure giustificazione, non portano vantaggi. Sono francamente delle sceleratezze, fini a se stesse. Ora, questo naturalmente dipenderà anche da che cosa? Dalla diffusione della sana conoscenza adatta ad accostarlo questo impulso del Cristo. Con tutti i limiti massimi che potete immaginare, attribuitemene anche di più deleteri, questo ambito così modesto è quello che cerchiamo di fare qui, di elencare, discutere, illustrare tutti gli elementi che o direttamente o indirettamente contribuiscono a questa comprensione dell'impulso Cristo. E ci vorranno ancora tanti insegnanti per spiegarlo all'umanità. E il più potente di tutti sarà l'attuale Bodhisattva, che ricordiamolo sempre, quando Ludovstein aveva 30 anni, si è incorporato in lui e tutto quello che da quel momento Ludovstein ha fatto fino alla morte era la risultante delle azioni sue e del Bodhisattva che operava in lui. Bodhisattva che fra 2.400 anni diventerà il Buddha Maitreya, il successore del Gautama. I Buddha si succedono ogni 5.000 anni, il quale sarà il più grande insegnante del cristianesimo per un motivo molto tecnico, perché avrà realizzato tanto la parola del Logos che gli allievi pronti, solo ascoltando la sua voce, già si vedranno rischiudere tutti i chakra interiori per la percezione dei mondi spirituali, quantomeno a livello immaginativo, cioè della terza gerarchia. E questo vale ancora di più a livello umano. Tentiamo di comprendere il più possibile, ma in un'incarnazione è impossibile, soprattutto perché c'è quel meccanismo di semina e maturazione che non bisogna mai dimenticare. Noi seminiamo un insegnamento in questa vita e perché diventi proprio parte di noi dobbiamo poterlo portare nel percorso tra due vite e lì quel seme scende nel terreno rappresentato dalle gerarchie che lo fecondano e lo trasformano in una realizzazione che è il livello successivo alla comprensione. Quindi il passaggio tra due vite almeno è indispensabile. Ma ciò nonostante, chi trova un accordo col Cristo, adesso specificheremo meglio che significa, giati per questo può essere sicuro che la scamperà dal materialismo. Dico specifichiamo perché c'è tanta intolleranza in materia, ma proprio troppa, troppa. Non faccio nemmeno distinzione tra le varie famiglie esoteriche, dappertutto. Mi è capitato di assistere a una funzione religiosa non molto tempo fa. Al momento della comunione tutti si sono presentati con un atteggiamento molto devoto. Prendevano ovviamente l'ostia dalle mani del sacerdote, ma c'è stata una ragazza ancora giovane che proprio quasi è caduta in ginocchio. Probabilmente attraversa un periodo molto difficile, ma non si può dubitare che almeno in quel momento quella ragazza, un suo contatto con l'impulso Cristo ce l'ha avuto sicuramente. Ora noi sappiamo che in quest'epoca il Cristo vuole essere compreso. Però ciò non toglie che non si può negare un contatto con il suo impulso in tutte le sfere precedenti. No, no. La devozione di quella ragazza, se continuerà in quel modo, la porterà sicuramente a incontrare la possibilità di portare la devozione a livello della conoscenza. E quando la devozione arriva a livello della conoscenza abbiamo la saggezza. Ora, è importantissimo però posizionarci bene noi, noi esseri umani. In che senso? Abbiamo visto che il Cristo ha già risanato l'egoismo nei sensi, negli organi, nelle facoltà interiori, e poi incarnandosi ha predisposto la possibilità di risanare l'egoismo anche direttamente nell'autocoscienza. Però una cosa è sicura. Adesso l'egoismo lo deve vincere l'uomo. Il Cristo nella sfera fisica non tornerà più. È l'uomo che deve salire in quella eterica, come primo gradino. E lì ha l'incontro diretto col Cristo eterico. Anche questo è un argomento che qui non posso approfondire. Bisogna avere la pazienza e aspettare il momento giusto. E' per questo che parliamo sempre di ascesi. Ascesi e non di risalita, perché risalita è un termine un po' materialista. Ascesi implica che si deve salire mentalmente e moralmente. E come conseguenza, poi, anche il fisico riceve una spinta purificatrice. Non è un'osservazione da poco. Perché se l'uomo contemporaneo non lo fa, questo passo, l'egoismo non sarà abbattuto, non sarà vinto, non sarà trasformato. Sarà trasformato in quelli che trovano il rapporto col Cristo, almeno a livello devozionale puro, come preparazione a quello completo con la conoscenza. E non è una cosa da poco, perché noi i disastri che stanno combinando l'egoismo li vediamo intorno a noi quotidianamente. Ora, tutto quello che abbiamo detto, abbiamo cercato di tradurlo in termini letterariamente comprensibili, molto modesti, perché sono argomenti che fanno tremare. Però non ci dobbiamo dimenticare che noi siamo di fronte a un mistero continuo. Non a caso il dottore dice che per realizzare il mistero del Cristo ci si ciorrà tutta la storia della Terra, fino a quando la Terra concluderà il suo ciclo, entrerà nel pralaia dal quale poi risorgerà come Giove. Eh, ma tutta la storia della Terra sono decine di migliaia di anni. Noi siamo nel quinto periodo della quinta epoca. ci vogliono ancora 1500 anni per finire il quinto periodo. Poi c'è il sesto, poi c'è il settimo, e poi finisce la quinta epoca. E poi c'è la sesta epoca, che avrà la stessa struttura, finirà anche quella e ci sarà la settima. Dopo la settima epoca finirà la storia della Terra. Immaginate quanto è durata questa. Questa comincia con la vecchia civiltà paleoindiana, non quella dei Veda, è molto precedente. Vuol dire che la realizzazione di questo mistero coinvolgerà tante di quelle nostre facoltà che ce le dovremo ancora procurare. Non ce le abbiamo neppure in nuce adesso. Perché, per esempio, con la venuta del Cristo, da quel momento il Cristo è diventato lo Spirito della Terra, ogni individuo che nasce riceve un quid virginio-germinale che lo accompagna tutta la vita e che, naturalmente, purtroppo, noi possiamo anche danneggiare. Cerchiamo di focalizzare una cosa del genere. È una cosa di una grandiosità immensa. Cioè ogni individuo che nasce sulla Terra, il che supera completamente ogni forma di culto locale. Noi conosciamo tante religioni che sono proprio legate a una zona della Terra molto precisa. Questo già supera ogni barriera spirituale. Qualunque nascita sulla Terra riceve questo quid nuovo, completamente germinale, misteriosissimo, che ha il compito di non essere completamente consumato durante la vita terrena, onde poterci dare una minima spinta verso quella ultramondana. perché, ripeto, purtroppo si può danneggiare. L'uomo può arrivare fino a quello. Dall'evento del Golgotha, dice il Dottore, che riassumiamolo un po', si può considerare estesamente o più concitatamente. Estesamente è tutto quello che va dal battesimo del Giordano fino alla resurrezione. ci sono i due appendici dell'ascensione della Pentecoste, però vanno incluse in una maniera un po' indiretta, complessa, oggi non la possiamo affrontare. Oppure, più sinteticamente, i tre giorni della passione della risurrezione. Beh, da questo mistero del Golgotha, che il Dottore chiama sempre così, mistero del Golgotha, che dopo che ne ha parlato per centinaia di volte, era un mistero per lui, emana un quid che vive nell'atmosfera spirituale della Terra, per la quale, ancora una volta, non c'è nessun uomo che ne sia escluso. Invece poi, da ciò che è risolto dal sepolcro, cioè dal Cristo risolto, deriva che il Cristo risolto si collega con tutti quelli che sono pronti a riceverlo. E anche questo non è un mistero da poco. Immaginate un po' il logos iniziale che si collega con l'anima di un essere umano. Noi abbiamo già accennato in più di un'occasione al mistero dell'eterizzazione del sangue. Il sangue, arrivato nella sfera cardiaca, si eterizza e lancia un fascio di luce verso la ghiandola pineale, importantissimo anche per il futuro sviluppo di questa ghiandola, mentre dall'alto discende un fascio di luce eterica, diciamo di forza eterica, meglio che luce, proveniente dal pensiero che si incontra con quello che sale dal cuore. Questo è un equilibrio che per noi significa la possibilità della coscienza con la C maiuscola. Ecco, l'impulso dell'eterizzazione del sangue si accompagna a quello del Cristo che parte dal cuore e fa il percorso ascensionale verso la testa, verso il pensiero che scende, verso la corrente del pensiero che scende. Se una persona trova un contatto col Cristo, ripeto, con assoluta tolleranza, la povera vecchietta o la terza elementare che fa il rosario tutte le sere, al suo livello lo trova, allora le due correnti si amalgamano, si armonizzano perfettamente e da lì tutto può succedere. Se non c'è un minimo contatto col Cristo, si urtano, si urtano violentemente e il risultato qual è? non c'è bisogno di descrivere il risultato. Questa certamente non è una civiltà che si comporta veramente secondo parametri cristiani. Non è una critica, per carità, è la constatazione dei fatti, non siamo ancora maturi, è molto difficile essere a livello del Cristo, questo bisogna ammetterlo sicuramente. Ora, questo non va, basta. La persona che comunque lo trova questo contatto col Cristo ottiene immediatamente due cose fondamentali, smette di deteriorare la propria anima e si apre alla possibilità dell'incontro proprio con l'elemento divino che è in sé, che è il sé spirituale di cui abbiamo parlato nella conferenza precedente, la goccia di divino che scende nelle spugnette quando l'uomo comincia a staccarsi dalla divinità, dal grembo divino e a formare la sua individualità personale. il Cristo non è venuto per salvare lo spirito umano. Abbiamo spiegato in diverse conferenze che noi siamo costituiti di corpo, anima e spirito e l'anima collega il corpo e lo spirito. Lo spirito cos'è? È il sé nostro spirituale che passa da vita in vita, da incarnazione in incarnazione mantenendo la propria individualità. Quindi è la nostra parte eterna. E il corpo cos'è? È l'esatto contrario. Il corpo è quello che alla fine degli anni che ci sono concessi qui sulla Terra o con l'inumazione o con la cremazione noi restituiamo alla Terra da cui si è originato, restituiamo gli elementi della Terra. L'anima collega questi due, ha proprio questa funzione fondamentale e riceve impulsi dalla sfera eterna e dalla sfera fisica. Qual è il dramma contemporaneo attuale? Che riceve troppi impulsi molto gravosi, molto degenerati dalla sfera fisica e quasi nessuno da quella spirituale. Non mi sto riferendo adesso a chi persegue un percorso spirituale seriamente o che cerca di intuire queste conferenze nonostante la pochezza della loro manifestazione. Questa è una tragedia. Quindi si vede benissimo che il problema non sta nel corpo che comunque fa la sua funzione e non può fare di più. Non sta nello spirito perché lo spirito non sa male e non muore. Lo spirito è immune dalla malattia e dalla morte. Può però subire il depauvoramento. Se l'anima non gli porta quello che gli deve portare oltre la porta della morte lo spirito si trova ad agire in condizioni svantaggiate. Adesso lo vedremo meglio perché nell'aldilà non esistono né la malattia né la morte. La malattia però corrisponde alla solitudine. Si può essere soli dall'altra parte in una maniera tremenda che non ci possiamo immaginare e la morte corrisponde all'offuscamento della coscienza e anche questo sussita grandi angosce. Ora quando diciamo dunque il Cristo vive nell'anima umana si capisce perché? Perché è nell'anima umana che si sviluppa la battaglia. È proprio lì che si sviluppa la lotta tra le gerarchie regolari e quelle irregolari. L'uomo è proprio il teatro di questa lotta. E a questo punto però qualcuno dirà ma questi concetti anima io sono un po' fumosi? Eh sì li dobbiamo chiarire un po'. Quando noi diciamo anima dal punto di vista della nostra vita terrena sostanzialmente è equivalente alla parola io non è proprio completamente contenuta ma infatti noi diciamo che le tre facoltà principali dell'anima sono scusate dell'io i tre strumenti dell'io sono l'anima senziente l'anima razionale l'anima cosciente quindi l'io si serve di queste tre dimensioni animiche sostanzialmente questo ci autorizza a ritenere che il concetto di anima è quello di io terreno sostanzialmente ripeto sono funzionali nello stesso senso noi possiamo con un passo successivo identificare l'io terreno con la personalità e che cos'è la personalità è quello che ci caratterizza dal momento in cui nasciamo a quello in cui moriamo io posso avere lo stesso io che si rincarna diciamo a distanza di secoli ma se mi sono incarnato non so ai tempi della Firenze del Machiavelli l'io che si è incarnato allora e quello che illumina la mia vita adesso è lo stesso ma la personalità che avevo a quei tempi non può essere uguale a quella di oggi è molto diversa diversissima e da questo deriva un quesito più che legittimo ma quanto ci portiamo noi di questa nostra personalità che comunque ci richiede una vita spesso di difficoltà nell'aldilà e nella prossima incarnazione questo dipende totalmente da come viviamo la nostra vita terrena facciamo un esempio eccessivo che non esiste che non è possibile è impossibile noi sappiamo che passati tre giorni dopo la morte o più o meno in cui c'è il distacco del corpo eterico da quello fisico e abbiamo il panorama contemporaneo di tutta la nostra vita intorno a noi poi il corpo eterico si deposita nel corpo eterico universale e da quel momento diventa lo sfondo di tutta la nostra azione di più non posso dire vastissimo speriamo mi auguro delle conferenze dedicate al tema da quel momento in poi noi entriamo nel Kamaloga che dura in genere lo stesso tempo che abbiamo dormito sulla terra perché perché riesamina tutta la nostra vita durante il sonno noi pensiamo di essere inerti durante il sonno la concezione contemporanea diciamo così materialista misura un po' di onde e si ferma lì no no siamo attivissimi durante il sonno addirittura persone pigre durante il giorno si rivelano durante il sonno attivissimi e la prima cosa che facciamo riesaminiamo il contenuto della giornata alla luce del sano della sana visione cosmica dell'universo cioè il nostro angelo ci aiuta con delle gerarchie preposte ogni notte a esaminare se la giornata l'abbiamo passata in un modo consono a regolare il corretto svolgimento della vita generale oppure contrario e tutto viene regolarmente segnato quando comincia il Kamaloka partiamo dall'ultima notte e risaminiamo all'indietro tutte le notti mentre nei tre giorni del corpo eterico abbiamo intorno a noi la vita di veglia proprio tutti i ricordi di quello che abbiamo fatto dalla mattina alla sera nei circa 20-30 anni del Kamaloka esaminiamo tutto quello che abbiamo fatto nel sonno la vita che qui è inconscia a meno che uno non sia iniziato e ci avviciniamo a che cosa al momento della nascita e in un'altra conferenza più di una abbiamo detto che il nostro sé spirituale quello che si incarna di vita in vita quando nasce una persona si ferma lì alla nascita più o meno nella zona in cui il neonato vive nei primi tre anni in cui non ha l'io terreno non ne ha la coscienza non che non ha l'io terreno andiamo incontro proprio al nostro io che si può dire che questo sé spirituale ci attende e gli portiamo che cosa il risultato della nostra vita terrena compatibile col mondo successivo in cui il sé dovrà andare cioè il devashan o devashan fate un po' voi l'accento lo sento da tutte le parti certo l'aggettivo è devashanico fattiamo questo caso assurdo impossibile come abbiamo parlato prima una persona totalmente materialista non esiste non è possibile che uno sia totalmente materialista ma ammettiamo che ci fosse comincia il Kamaloga portandosi dietro una serie di risultati terreni tutti incompatibili col devashan nemmeno uno è se accettabile dall'altra parte perché è totalmente materialista e quando arriva l'incontro col sé spirituale non gli consegna nulla è chiaro che in quel caso della personalità terrena con cui quella persona ha vissuto non è rimasto nulla assolutamente nulla e il sé spirituale deve cominciare poi il suo percorso ultramondano perché comunque ci va anche in quel caso nel devashan ma con delle grosse difficoltà grossissime difficoltà praticamente dei venti talenti quella persona non gli ha portato nemmeno un talento e magari gli ha portato anche dei debiti si è indebitato anche oltre i venti talenti per rifarci a una parabola che è sempre molto efficace ora normalmente questo ripeto è un caso impossibile le persone hanno difetti ombre luci ma questo significa che tutto quello che durante la vita terrena noi riusciamo a spiritualizzare sarà sicuramente intoccabile nel nel Kamaloka lo attraverserà come se non ci fosse e andrà ad arricchire il sé spirituale col quale noi ci rincarneremo nella vita successiva se una persona fosse riuscita nella vita ma anche questo è impossibile a vivere totalmente in modo spirituale quella personalità si conserverebbe tutta il sé spirituale la porterebbe completamente nei mondi spirituali verrebbe arricchita e si ripresenterebbe addirittura nell'incarnazione successiva nei grandissimi iniziati questo arriva a livello persino del corpo fisico se rincarnano con la stessa fisionomia naturalmente la realtà è sempre una sfumatura di questi due eccessi ma è bene anche specificare meglio che significa spiritualizzare perché si tende un pochettino a un misticismo o esaltato o evanescente il caso che abbiamo fatto spesso lo scienziato che vede il suo tavolo di lavoro come un altare e intenzionalmente chiede l'ispirazione delle gerarchie e offre al mondo spirituale tutti i suoi risultati anche se ha fatto delle ricerche totalmente materiali però per fare questo trasferimento comunque ha dovuto instaurare in se stesso un processo spirituale in quel caso molto molto difficile è molto più facile spiritualizzare un contenuto antroposofico quello si spiritualizza da solo quindi il fenomeno centrale qual è? che una vita in cui l'individuo abbia saputo realizzare un bel equilibrio tra queste tre parti che lo costituiscono lo spirito l'anima e il corpo che sono tutte e tre fondamentali sono importantissime tutte e tre se noi abolissimo l'anima avremmo delle persone che hanno una mente formidabile una volontà che è formidabile prive di qualsiasi sentimento che convinte di un'idea folgorante sterminano migliaia di persone senza battere ciglio senza il filtro dell'anima avremmo questi questi accessi terrificanti oppure se l'anima è completamente senza affitto dell'anima è possibile invasa dagli ostacolatori questo ancora ci porta a un passo successivo evidentemente dunque determinante come processo escatologico sano l'arricchimento che alla fine di ogni vita terrena riusciamo a diciamolo pure ad attribuire al nostro sé spirituale che ci aspetta alla fine del Kamaloga e su questo tema dell'arricchimento possiamo anche avere molto vasti cioè non è necessariamente limitato a una visione un po' bigotta la persona che scopre un farmaco che salva tante vite umane ha fatto qualcosa di eccezionale i casi non li voglio dencare ci potete arrivare tutti da soli ma c'è un arricchimento che il dottor Stein dice è il più fondamentale in assoluto ed è proprio la comprensione dell'impulso Cristo che è drammatica perché cozza contro una mentalità veramente falsa e la mentalità veramente falsa è che per esempio è inutile occuparsi delle cose spirituali dell'aldilà ora ci occupiamo di quelle terrene e quando saremo nell'aldilà ci occuperemo di quelle spirituali ma la terra non è stata creata a caso la terra è stata creata perché solo qui possiamo formulare dei pensieri delle rappresentazioni che poi vanno portate nell'aldilà e nell'aldilà sono importantissime pensare di non dedicarsi alla comprensione dell'impulso Cristo qui confidando in una specie di automatica comprensione dopo la morte è un errore clamoroso chi non trova il Cristo qui non lo trova nemmeno di là questo è sicuro assicuratamente sì o se no l'esistenza della terra sarebbe pleonastica molte cose si possono fare solo qui è un grave errore non farle ma perché poi è così importante beh si dovrebbe già avere intuito da tutte le nostre conferenze perché è importante trovare questo impulso col Cristo è un viatico eccezionale già nella vita sulla terra quante volte ci siamo sentiti dire il grande consalatore il grande risanatore interviene interviene anche in quelli che non sospettano nemmeno la sua esistenza non la vogliono accettare Cristo vive di un amore che non si non si mette barriere o limiti però però se uno passa la soglia in Cristo come si dice ricordando il famoso detto in latino ex deo nascimur veniamo dal padre in Cristo morimur dobbiamo morire nel Cristo per spiritum santum revivissimus adesso oggi ci possiamo concentrare solo su quella centrale gli altri due sono misteri immensi speriamo in occasioni future morire in Cristo ha delle conseguenze pratiche enormi enormi il Cristo ci permette di conservare il nostro io proprio il mio che abbiamo quasi definito un po' così un po' grossolanamente personalità in tutto il percorso ultramondano fino a dove oggi le condizioni cosmiche permettono di mantenerlo perché poi arriviamo a un certo punto che comunque entriamo in uno stato di sogno sonno perché dobbiamo fare delle cose così importanti che non siamo in grado di farle ed è meglio che non opponiamo ostacoli all'azione delle gerarchie non potremmo mai costruirci da soli il cervello che ci serve nella seconda parte del viaggio ultramontano lo devono fare delle gerarchie enormi noi collaboriamo ma quasi in uno stato onirico se no daremmo proprio fastidio ma il Cristo ci permette di portare la coscienza dell'io fino a oltre la sfera solare che significa che se io mi porto la sfera dell'io oltre la morte questa è immortalità poi ripeto la mancanza di coscienza c'è un certo periodo dopo ritornando verso la terra riacquistiamo di nuovo la coscienza dell'io più forte di prima ma non è tutto noi sappiamo per esempio che nella prima fase dopo la morte quando rimaniamo nella sfera spirituale della luna che è quella degli angeli c'è ancora un ricordo fortissimo della vita terrena successivamente diventa decisivo il livello morale con cui siamo morti se siamo morti con un livello di scarsa moralità facciamo l'esperienza della solitudine che dall'altra parte è terribile nel passaggio successivo ancora la sfera delle arcai diventa decisiva la religiosità qualunque forma di religiosità non siamo bigotti e intolleranti purché sincera e devota con la quale abbiamo vissuto sulla terra ora mi fermo perché nella sfera solare ci vuole addirittura la toleranza verso tutte le religioni ma che cosa fa il Cristo in tutto questo percorso quando arriviamo nella sfera solare ci permette di impadronirci è proprio la parola giusta delle forze eteriche di cui abbiamo bisogno per costruire il corpo successivo nella successiva incarnazione e siccome come dice Giovanni io e il padre siamo uno cosa ancora più misteriosa ci permette anche di impadronirci delle forze archetipiche fisiche di cui avremo però bisogno per un corpo sano e forte quindi vedete che morire in Cristo non è una questione così mistica sì è anche una questione mistica si può anche vedere così naturalmente ma è molto sostanziale molto sostanziosa e se no questo detto latino in Cristo Mormor che ha tanta potenza nel mondo mistico esoterico da sempre nel mondo dell'occulto non sarebbe stato formulato e ci avviamo dunque alla conclusione per quelli che hanno resistito naturalmente che cosa possiamo ricavare un po' da tutto questo noi se qualcuno ha letto insomma abbastanza Rudolf Stein sarà rimasto colpito dal fatto che raramente Rudolf Stein usa delle espressioni enfatiche a un tale rispetto della libertà del suo auditorio che non non è mai freddo è sempre molto toccante ma c'è un caso in cui mi ha colpito lui raccomanda moltissimo di fare nostra l'esortazione di Paolo Paolo di Tarso naturalmente la quale credo sintetizzi bene il rapporto che dovremmo cercare di instaurare tra i due termini che danno il titolo a questa conferenza e devo dire proprio conseguenziale con le precedenti come sono sempre queste conferenze ma in questo caso particolarmente e i due termini quali sono la conferenza si chiama logos ed io il logos il Cristo e l'io umano perché tutto si gioca su questo rapporto Rudolf Stein questo lo enfatizza molto e qual è l'esortazione di Paolo con la quale possiamo concludere Paolo dice non io ma il Cristo in me potete trovare i testi consigliati dal professor Leonetti al link che si trova sotto al video nell'info box nella versione cofanetto per avviamento al percorso antroposofico e cofanetto livello avanzato oppure singoli testi grazie ancora del vostro sostegno vi ringraziamo di sostenerci e seguirci sempre tramite iscriviti abbonati e il pulsante grazie avete contribuito a rendere grande questa realtà grazie a tutti grazie a tutti